Vi presento subito il nostro ospite, Giuseppe De Martino, benvenuto dottor De Martino, cardiologo, aritmologo presso elettrofisiologo nella casa di cura Salus di Battipaglia, nella clinica mediterranea e Napoli, personaggio ultrapopolare, perché oggi analizziamo la miocardite come effetto collaterale di una banale influenza, di un virus influenzale. L'influenza, a proposito di influenza, quest'anno è in arrivo anticipato, avevamo smesso, vi ricordate, di parlarne nella primavera scorsa, ora bisogna riprendere a parlarne perché siamo tra ottobre e novembre ma l'influenza è già arrivata in alcune città italiane ed è stato isolato il virus per la prima volta a Parma qualche giorno fa da un tampone faringeo di una bambina ricoverata nel locale ospedale universitario e quest'anno promette di mettere a letto 6 milioni di persone, saranno meno persone ma sarà più virulenta, ma non è dell'influenza in sé che vogliamo parlare oggi perché ne avremo e come di occasioni, ma di effetti collaterali di una virus influenzale ed in particolare dicevamo della miocardite, una infiammazione, lo dice stesso il termine, una infiammazione del muscolo, del tessuto muscolare cardiaco che può dipendere da tanti fattori tra i quali appunto un'influenza oppure una virosi respiratoria virale. Dunque dottor De Martino, quali sono i sintomi della miocardite e come si diagnostica? I sintomi della miocardite sono piuttosto aspecifici, tra l'altro come diceva lei una delle cause più frequenti della miocardite è proprio un'influenza e quindi i sintomi sono quelli del dolore al petto, dolenzia che può essere confusa in un paziente che ha avuto una influenza con un dolore magari bronchiale oppure può essere confuso con un dolore anginoso, quindi con il dolore invece di chi soffre di cardiopatia ischemica. Altro sintomo importante è la mancanza d'aria, la fame d'aria, però anche qui sintoma specifico perché magari una persona molto raffreddata potrebbe avere questa sensazione e ancora poi le aritmie perché può dare cardiopalmo, sensazione di perdita di battiti, tutti i sintomi aspecifici che quindi sono confondibili con banali disturbi. Esatto e quindi bisogna pure stare attenti poi dopo a non fare allarmismo e il problema è poi la febbre, anche la febbre dopo un'influenza. Bisogna sospettare una miocardite quando si è avuto una febbre un po' più intensa del solito, un'influenza che è durata di più e quando poi dopo a distanza di qualche giorno iniziano a comparire di nuovo sintomi di questo tipo. Primo test dell'elettrocardiogramma, però credo anche l'altro. Lo screening per escludere una miocardite, la miocardite è molto insidiosa proprio perché si confonde. In realtà che cosa accade in questi casi? Che il virus influenzale permane nel cuore, aggredisce le cellule cardiache e crea un'infiammazione. Il miocardite è questo e questa infiammazione poi pian piano in alcuni casi può dare problemi più seri. Ha due tipi di evoluzioni, una molto acuta, iperacuta, che la miocardite ha cellule giganti, che porta proprio il cuore a perdere di forza e fa comparire uno stato di grave scompenso cardiaco, cioè il cuore non riesce più a pompare sangue in maniera sufficiente e quindi il paziente va incontro proprio a difficoltà serie. Oppure può decorrere in maniera subacuta, in maniera un poco meno percettibile, dando dei disturbi, che erano quelli che dicevamo prima, più subdoli e che ha un decorso però più benigno. Il problema è diagnosticarla. Il primo livello di screening è sempre quello fatto di un elettrocardiogramma e un ecocardiogramma. All'ecocardiogramma osserveremo una riduzione della contrattilità, quindi una riduzione della motilità delle pareti cardiache e all'elettrocardiogramma potremmo vedere dei segni che ci possono orientare. Quindi sicuramente quando c'è una febbre, la comparsa di un affanno protratto che non va via dopo qualche giorno di influenza, bisogna rivolgersi al proprio medico di base, al proprio cardiologo di riferimento. Ecco, con lei abbiamo tante volte parlato di morti improvvisi di giovani, anche di atleti, insomma, quante volte ne abbiamo parlato, la cui causa non è l'infarto, ma piuttosto questa cardiomiopatia aritmogena che ho letto può essere proprio un'evoluzione, come ha detto lei poco anzi, di una miocardite in cui quindi non si scherza. E quindi ecco l'importanza della biopsia endomiocardica è poi l'argomento di oggi. Precisamente a cosa serve? Cosa si può scoprire da questo esame istologico? Perché poi si fa un prelievo, è vero? Poi lo spiegherà adesso, lo spiega lei. Tra poco vedremo anche come si fa tecnicamente. Sì, quando questi sintomi permangono e c'è un sospetto elevato, quindi che questo virus possa aver infettato il cuore e danneggiato, allora si fanno questi esami, diciamo, prima di primo livello, l'elettrodiagramma e l'ecocardiogramma e quando questi esami confermano il sospetto diagnostico può essere opportuno, il cardiologo potrebbe decidere di approfondire con una biopsia. La biopsia è il prelievo di tessuto cardiaco attraverso una piccola pinzetta, lo vedremo dopo, che consente quindi di raccogliere dei piccoli frammenti di cuore, di cellule cardiache e poi di poterli analizzare direttamente e quindi di poter riscontrare la presenza del virus o più spesso dell'infiammazione all'interno del cuore. La miocardite non è un evento rarissimo e pensate, da sola rappresenta la causa più grande di morte improvvisa sotto i 40 anni. Questo perché? Perché in alcuni pazienti, grazie a Dio l'influenza decorre solitamente in maniera benigna nella maggior parte della popolazione, ma in alcuni pazienti probabilmente predisposti, ancora non sappiamo identificarli a priori, il virus riesce ad attaccare invece in maniera più cattiva il cuore e a dare anche un'infiammazione così importante da creare all'improvviso delle aritmie che portano all'arresto cardiaco. Quindi è fondamentale poi dopo individuare, alzare un po' quel campanello d'allarme quando certi sintomi si protraggono per più di 10-15 giorni ad esempio e quindi poi rivolgersi al cardiologo e approfondire. La biopsia consente di fare una diagnosi differenziale. È fondamentale nei casi per esempio di due condizioni. Prima di tutto in quei casi di miocardite acuta fulminante, con quei pazienti nei quali, soprattutto nel caso di questa miocardite a cellule giganti, pazienti che all'improvviso fanno febbre, hanno affanno intenso che non va via, l'ecocardiogramma mostra un cuore dilatato e che non riesce più a contrarsi. In quei casi la biopsia consente di riscontrare la presenza di questa infiammazione intensa e impone poi, ci consente poi di procedere a una terapia mirata antinfiammatoria e immunosoppressiva. L'altro caso è quello invece dello scompenso cardiaco cronico, dove abbiamo cardiopatie dilatative, quindi cuori che non pompano bene da mesi, da anni, e nei quali abbiamo fatto una coronarografia che è escluso una causa ischemica. In quei casi spesso anche lì c'è una miocardite mal curata, alla base di queste cardiopatie dilatative e la biopsia consente di confermare questa diagnosi e se si trova l'infiammazione e si può escludere la replicazione virale, perché poi che cosa succede? Che il virus inizialmente attacca l'organismo, il cuore e crea un'infiammazione. Dopodiché si subendono i meccanismi di autoimmunità. Il virus scompare, ma l'infiammazione riesce a proseguire autonomamente. In questi casi, quando si può escludere ancora la presenza di una replicazione virale e si conferma invece la presenza persistente di infiammazione con la biopsia, poi si può procedere a una terapia immunosuppressiva che può aiutare il paziente. Veniamo proprio alla tecnica della biopsia che abbiamo capito, è un prelievo che si fa attraverso una, diciamo, endoscopia e che lei fa con accesso femorale, vero? Attraverso linguine. Noi come gruppo Servisan attivi, quindi in collaborazione con la Salus, con la Mediterranea di Napoli e con tutto il network Neuromed, ci interessiamo molto di scompenso cardiaco e quindi un completamento diagnostico fondamentale è quello della biopsia nello scompenso. Non si può trattare bene lo scompenso se non si possiede la tecnica della biopsia. Abbiamo quindi deciso di portare in campagna questa tecnica e di offrirla in maniera convenzionata alla popolazione proprio perché è un completamento importante. La biopsia è semplice. Con il Servizio Sanitario Nazionale. Assolutamente, assolutamente. La tecnica è molto semplice, come vedete si punge una vena o un'arteria a livello femorale, quindi sull'inguine, quindi un normale cateterismo, attraverso il quale poi si entra nelle vene o nelle arterie, a seconda se vogliamo fare una biopsia del ventricolo destro o del ventricolo sinistro, e da lì si raggiunge il cuore con un cateterino che ha in punta una piccola pinzetta. Sì, questo ho letto biotomo. Il biotomo, benissimo. Sì. Il centro più importante italiano è l'Università di Padova, con la professoressa Basso, con la quale abbiamo creato una collaborazione. Quindi i frammenti che preleviamo poi vengono inviati lì e dopo una settimana otteniamo i risultati. È molto importante perché abbiamo fatto delle bellissime diagnosi. Per esempio, proprio settimana scorsa, una ragazza che aveva delle bruttissime aritmie e qui vediamo attraverso l'ago poi il… Ecco sì, si inserisce, questa è la tecnica di Seldinger, è una tecnica che consente a chiunque faccia procedure interventistiche di accedere ai vasi sanguini. Si punge con un ago e poi c'è una guida. Quella è l'arteria, vero? L'arteria femorale. Un'arteria o una vena, sì, può essere una dei due. Attraverso la quale poi su questa guida si inserisce una cannula che diventa la porta d'accesso per entrare con i nostri strumenti all'interno dell'albero venoso o arterioso. Lei di solito preferisce il ventricolo destro o quello sinistro? Dipende dalla tipologia, dalla presentazione clinica. Solitamente la tecnica base prevede l'accesso alla vena e quindi poi al ventricolo destro. Quindi dei prelivi, di solito sono 5-6 prelivi che vengono fatti in ventricolo destro. Sotto imaging, è vero? Sotto guida radioscopica. Ci sono però delle condizioni dove la miocardite può essere parcellare, può essere geopardizzata, quindi a macchia di leopardo. Ecco qui il viaggio che fa il catetere, la sonda. La sonda. Beh, in quei casi, quando la miocardite colpisce solo delle aree focali, facciamo precedere all'esame bioptico un esame di mappatura del cuore con un sistema che va a vedere, a identificare le zone a maggiore compromissione. E poi la bioposia viene fatta in maniera mirata in quelle zone. E questo consente di aumentare la sensibilità diagnostica di un esame, cioè la possibilità poi di fare diagnosi. Ecco, questo è proprio un frammento. L'anestesia? L'anestesia locale. Si tratta di un esame diagnostico che dura sia no mezz'ora. Sì, sì. Quindi il paziente è perfettamente sveglio. Noi amiamo dare una sedazione. Una sedazione, sì. Quindi il paziente viene sempre addormentato, ma non è un'anestesia generale. Non è un'anestesia, ma un addormentamento, insomma, una sedazione. Il paziente prende sonno in maniera artificiale, ma respira spontaneamente, in modo tale da togliergli un po' lo stress psicologico della procedura. Ma questo noi lo facciamo con tutte le procedure che effettuiamo, anche con i banali impianti di pesmecro, di defibrillatore. Quindi durata brevissima, 30 minuti. Sì, sì, richiede una notte di ricovero, solitamente. Una o due notti di ricovero. Ecco, questa è proprio la punta del biotomo che si consente poi di prelevare i frammenti. Sì, quindi i frammenti raccolti vengono conservati, raccolti e poi inviati all'Università di Pato, in questo laboratorio specializzato. Sì, assolutamente. E dopo una settimana riusciamo a ricevere tre livelli di informazione. Quella istologica, cioè dove il tessuto viene analizzato e quindi si vanno a osservare, si vanno a cercare, per esempio, linfociti. Oppure poi un'analisi immuno-istochimica e poi genetica. Ecco, tra gli esami, ho letto, c'è anche la risonanza magnetica che però non stabilisce poi la qualità della infiammazione. Cioè la risonanza magnetica magari rileva che c'è l'infiammazione, ma non c'è il tipo o la qualità. La risonanza magnetica non ha un'altissima sensibilità. È un esame intermedio che si fa quando c'è il sospetto all'ecocardiogramma e la biopsia però consente di essere più certi e soprattutto di fare un'antipizzazione, quindi una diagnosi precisa. Bene. E quindi ecco questo esame che è un esame salvavita, insomma. Possiamo definirlo tale? Beh, in alcuni casi sì. C'è un studio pubblicato da un gruppo della Cattolica alcuni anni fa che dimostrò per esempio che nello scompenso cardiaco, in cardiopatia dilatativa, se si analizzava più approfonditamente utilizzando la biopsia e si selezionavano dei pazienti con determinate caratteristiche, questi pazienti potevano essere salvati dallo scompenso e quindi potevano venire...